Abbiamo a che fare con un gas a tre teste nero OOOOOOOOH Oh mio dio che paura Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft E sicuramente vi starete chiedendo Kendall ma dove diavolo ti trovi? Questo non è Minecraft Non sembra Minecraft che conosciamo noi e a cui giochiamo tutti i giorni Infatti no, oggi mi trovo su Minecraft per Windows 10 Ovvero la stessa identica versione di Minecraft per Xbox Perché voglio farvi vedere una figata assurda Intanto è possibile fare questo salto con l'Elytra Oh mio dio io faccio schifissimo ragazzi con l'Elytra Sono veramente negato Comunque oggi ci troviamo in questa nuova versione Perché qua esistono delle figate assurde che non esistono nel Minecraft normale Quindi oggi voglio farvi vedere un paio di nuovi mostri Compreso anche il signore delle tenebre Il grandissimo signore oscuro Aerobrine E beh io sono un signore delle bedwars Lui è un signore delle tenebre Quindi sicuramente saremo degli amichetti Ma prima di iniziare con questo video Lasciate un bel mi piace immediatamente E condividetelo con tutti quanti i vostri amici E fatemi sapere soprattutto Se vorreste vedere dei nuovi video in questa versione di Minecraft Perché è veramente stramba Guardate come saltella il mio personaggio Ma cosa fa? Cos'è una fatina? Sei una fatina? Kendall sei diventato una fatina dei denti? Non sei più un imperatore delle bedwars? Quindi ragazzi lasciate un bel mi piace E condividete questo video con tutti quanti i vostri amici E adesso vi faccio vedere una figata veramente assurda Prima di tutto prendiamo della ossidiana Perché ci servirà dell'ossidiana per farvi vedere questa figata E iniziamo a creare un portale del nether Ecco non lo possiamo creare così Perché ho piazzato già un blocco in più Che non doveva starci Quindi rifacciamo un altro strato Così perfetto Poi continuiamo così a salire Intanto in questa versione di Minecraft Si costruisce in un modo veramente tanto tanto bizzarro Ed è... Non mi piace tantissimo a dirvi la verità ragazzi Il modo in cui si costruisce è troppo strano Rispetto alla versione normale Ma comunque non importa Noi dobbiamo semplicemente fare un portale del nether Perfetto E poi prendiamo il nostro accendino Bellissimo E facciamo... Lo accendiamo Perfetto Così possiamo entrare all'interno del nether Siete pronti? Mi mangio una bellissima mela d'oro Tra l'altro come diavolo la mangia questa mela d'oro L'animazione Quanto è bella l'animazione Entriamo all'interno del nether E vi faccio vedere una figata ragazzi Pazzesca Voi non mi credete Ora sicuramente penserete Ma Kendall sarà semplicemente il solito nether di sempre E allora cosa succede se io provo a spawnare un ghast cattivissimo proprio in questo nether Ah lo volete vedere ragazzi Non è un semplice ghast No abbiamo a che fare con un ghast a tre teste nero Oh mio dio che paura Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Lo ce ne vuole Però questa spada toglie veramente tantissimo E come vedete Con una semplice frecciata della mia spada potente Siamo riusciti a ucciderlo E direi anche di mettermi una piccola armatura Perché altrimenti qua ci ammazzano come non mai Proprio ci fanno a fettine Ci fanno a rosso Quindi avete visto questo ghast a tre teste nere Che è veramente bellissimo E così così Ne spawno un altro Un'altra ancora Un'altra ancora Ah Oh mio dio Ok troppi 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 Devo scappare Devo scappare Ripariamoci Ok C'è un problema Houston abbiamo un problema E' pieno di ghast giganti Li dobbiamo ammazzare tutti quanti Mori pure tu là sotto Cosa pensi di scappare? Pensi di poter scappare a Kendall? Non si scappa Alla furia dell'imperatore E io sono abbastanza sicuro Di averne spawnati quattro Però ne ho uccisi soltanto tre Dov'è finito il quarto? Sarà mica nascosto qua da qualche parte? Non lo so ragazzi Ma tutto ciò Mi mette veramente i brividi E cosa succede? Si attacco te No non sono mica stupido Non ti attacco Torniamo a casa nostra ragazzi In game mode 1 Perché ovviamente Non avevo blocchi Per risalire a casa Questo portale adesso Non ci servirà più Perché io ho già fatto vedere I ghast spaventosissimi Che spero che un giorno Magari li aggiungano Anche nella versione vera Di minecraft Sarebbe una figata pazzesca Non vedo l'ora Anche perché hanno tre teste Fanno un rumore assurdo Sono fortissimi E sono neri Cosa ci potrebbe essere di meglio Sono veramente troppo troppo epici Però abbiamo un mostro ancora migliore Che dovrebbero secondo me Aggiungere nella versione ufficiale di minecraft E torniamo in game mode 0 Perché adesso vi faccio vedere ragazzi Un giocattolino Non ce l'ho neanche Perché mi sono dimenticato di prenderlo Quindi sapete cosa? Dobbiamo tornare in game mode 1 Ok Siete pronti ragazzi? Siete o non siete pronti? Tenetevi forte eh Tenetevi forte Perché ora vi faccio vedere un piccolo giocattolino Che sembra innocuo a prima vista Ma in realtà è cattivissimo Esplode e distrugge tutti quanti Guardatelo qua No 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 aspetta Non esplodere gioco No piano Dammi il tempo almeno di parlare Di cosa sei Di chi sei tu Ok Senti se non mi lasci stare Devo scappare E a me non piace scappare dai miei amichetti Perché noi siamo amichetti Come verete ragazzi È un batuffolino piccolo Ma in realtà è anche abbastanza grande E massiccio Sembra quasi un giocattolo E soprattutto Lo possiamo fare diventare amico nostro Grazie agli smeraldi E lo possiamo fare crescere di più Grazie ai diamanti Questa è già la versione però Cresciuta e cattiva E soprattutto ragazzi Rimpiazza il creeper Quindi se io mi avvicino a lui Esplode in mille pezzi No Wow 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 È esploso E ce n'abbiamo uno Oh mio dio Questo è appena spawnato Là ce n'è un altro Perché si sta facendo notte E ovviamente spuntano i mostri Guardate quanti ce n'è Ce n'è uno anche là sotto Oh mio dio ragazzi Sono carinissimi Secondo me sono veramente Troppo troppo carini E ne vorrei tantissimo Adottare uno E anche loro ragazzi Sono tosti Proprio come il gas Questa infatti È la spada del totem Dell'undying Quella che sto utilizzando Che in realtà è un arco E stiamo utilizzando Come frecce I totem degli undying Che fanno un male assurdo A questi mostriciattoli Qua sotto E infatti come verete Riesco a uccidere mostri Nella potenza di quel gas Con una semplice freccia E anche tu ovviamente Ti uccido con una semplice freccia Ma ragazzi Le sorprese Non finiscono qui In questo nuovo mondo Pazzo di minecraft Che vi ripeto Se volete vedere un altro video In questo minecraft Fatemelo sapere Qua sotto nei commenti È arrivato il momento Di tornare al giorno Perché non voglio Tutti i mostri Che lo aiutano Perché andremo a spawnare Una delle creature Più terrificanti Di minecraft Il signore oscuro Colui che mette paura A tutti i bambini Che si approcciano Al nuovo gioco E non appena lo vedono Si spaventano E si fanno la pipì sotto Ehi 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 Zombo Che cosa vuoi fare? Ok Meno male che è morto Solo perché se no Ci pensavo io Se no ti tiravo una sparata Così e ti ammazzavo Comunque Ora andiamo a spawnare Il vero e grande Signore delle tenebre Lo so Starete pensando Ma Kendall Non puoi mica spawnare Aerobrain su minecraft Non esiste Non ti può fare Ah si Pensate voi che io Che io menta Io non sto mentendo ragazzi Guardate Ora vi spawno Aerobrain Si si Facciamo proprio un bellissimo Altarino E vi faccio vedere come spawnarlo Dobbiamo mettere questo blocco qua Poi un blocco qua Dopodiché continuare in questo modo E abbiamo creato ragazzi Le braccia E il corpo E poi Dobbiamo semplicemente mettere la testa Oh no 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 L'ho spawnato L'ho spawnato L'ho spawnato Ho paura Aerobrain Siamo amici? Siamo amici? Sembrerebbe che non mi voglia fare niente Aspettate Forse siamo amici? Mi ci avvicino Piano piano Cauto Cauto Allora guarda Io sono un Ah che cos'è che guardi? Guardi Piano Avvisami quando mi devi guardare Che mi metti paura Dicevo Io sono un imperatore delle bedwars Tu sei l'imperatore delle tenebre Quindi siamo amiche Ci facciamo uno screenshot insieme? Quanto lo vuoi fare? Perché continui a guardarmi con quest'aria minacciosa? Ho l'impressione che da un momento all'altro Mi deve fare saltare in aria Tutto ok? Siamo Siamo o non siamo amici? Mi sa tanto che non siamo amici Sapete cosa ragazzi? Io mi mangio questa Tanto per ragazzi Per precauzione E vorrei provare a dargli un pugnetto Guarda Ti do una pacca sulla spalla In modo amichevole proprio Ecco Ok No 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 Scherzavo Ehi ehi Non mi inseguire eh Guarda che ho detto Non mi inseguire Ora mi devo prendere una spada ragazzi E lo combattiamo Aerobrand vuoi combattere? Sei sicuro che vuoi combattere contro un imperatore delle bedwars? Guarda che ti tiro le spadate Oh mio dio ragazzi Ma che voli mi fa fare questo? Ma che voli mi fa fare signore delle tenebre? Spero soltanto non mi uccida Perché ho l'impressione che questo con un colpo mi può ammazzare da un momento all'altro Oh mio dio Appugni ragazzi E appugni Guardate quanto mi toglie Mi sta praticamente uccidendo No 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 Mi ha ucciso Non ci credo Mi sono fatto uccidere da Aerobrine E perché è pieno di creeper qua davanti? Non ci posso credere Quest'Aerobrine è veramente fortissimo Ne spawn un altro e vediamo se è amichetto Oh no non lo posso spawnare Ragazzi vi giuro che non l'ho fatto io Non è che Aerobrine si è già impossessato del mondo E sta facendo tutti i suoi cambiamenti malvagi e maligni? Eh mi sa tanto di sì A questo punto mi sa proprio di sì Pecorella Hai visto uno per caso con gli occhi bianchi? No si gira? Ha paura di dirmelo forse Ragazzi Lasciate un bel mi piace a questo video Se vi è divertito e se vi è piaciuto Soprattutto fatemi sapere se vorreste vedere dei nuovi video Con queste figate di Minecraft Per Windows 10 o per Xbox Chiamatelo come volete voi Io non so ancora come si chiama Comunque è un Minecraft diverso Ma è veramente super divertente Perché possiamo mettere tantissime mod E tantissime figate come queste E soprattutto io continuo a saltellare Come se fossi una fatina Perché questo non è come saltello un imperatore No Una fatina saltella in questo modo Siamo riusciti a evocare il grandissimo signore delle tenebre Che purtroppo ci ha ucciso nel nostro mondo Però vabbè capita Cioè lui teoricamente dovrebbe essere più forte di me Poi non lo so In un duello a armi pari Chissà chi vince Probabilmente vincerei io Però non glielo dite Perché se no mi viene a trovare di notte mentre dormo Lasciate un bel mi piace a questo video ragazzi Da Kendall è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao